Buonasera cari amiche e cari amici di Tutta Salute, benvenuti anche in questo martedì 1 dicembre. Non abbassare la guardia nei confronti di una malattia che si può curare ma dalla quale non si può ancora guarire. Oggi è il 1 dicembre e si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS e questo sarà il tema di questa puntata. La pandemia di Covid-19 ha impattato negativamente non solo sul cancro e sulle altre malattie croniche ma anche sull'epidemia di AIDS, soprattutto nei paesi meno ricchi e con sistemi sanitari più fragili. Per questo il tema della giornata mondiale contro l'AIDS di quest'anno è solidarietà globale, responsabilità condivisa e l'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l'attenzione di tutti su questo problema e sulla necessità di una solidarietà che sia diffusa e appunto non locale. In Italia i nuovi casi sono in calo dal 2012 ma stanno crescendo purtroppo le diagnosi tardive. Ben il 60% delle persone scopre di avere la malattia già in fase avanzata. Allora noi accenderemo il riflettore sulla nostra realtà emiliano-romagnola con il nostro ospite di oggi che sono molto contenta di avere qui perché si collega direttamente dalla corsia e quindi è molto prezioso averlo con noi. Il dottor Andrea Boschi, infettivologo responsabile della struttura interdipartimentale gestione e infezione da HIV dell'Ausl Romagna. Benvenuto dottore, grazie davvero. Buongiorno a tutti. Grazie dottore. Allora io direi di vedere subito, di ascoltare insieme a lei un servizio con i dati del report annuale realizzato dal laboratorio unico di Pieve Sestina dove esiste un registro delle nuove diagnosi di infezione da HIV che è costantemente aggiornato dal 2010. Allora noi sentiamo un po' di dati e poi torniamo insieme. In Emilia-Romagna in dieci anni, dal 2010 al 2019, le nuove diagnosi di HIV tra i cittadini residenti sono quasi dimezzate, passando da 388 a 209, quindi un meno 46%. Sono 165 uomini e 44 donne. Nel 2019 sono state 22 in provincia di Rimini, con un'incidenza di 6,5 ogni 100.000 abitanti, che resta comunque la più alta in regione. I nuovi casi rilevati sono 47 a Bologna, 30 a Modena, 24 a Ravenna, 22 a Parma e Rimini, 21 a Forlicesena, 20 a Reggio Emilia, 13 a Piacenza e 10 a Ferrara. Le persone giunte tardi alla diagnosi sono state 122, 59 invece i residenti emiliano-romagnoli che hanno sviluppato la malattia conclamata, quindi l'AIDS, nel 2019. Tra le persone sieropositive il 74% è maschio, il 31% ha dai 30 ai 39 anni, il 68% è italiano. La classe di età più colpita è quella tra i 20 e i 49 anni. I casi di sieropositività sono invece modesti tra i più giovani e negli ultracinquantenni. L'incidenza tra i maschi è 11,4 casi ogni 100.000 abitanti, tra le femmine è 3,8. Le persone straniere con HIV sono poco meno di un terzo del totale, sensibilmente più giovani rispetto agli italiani e prevalentemente di sesso femminile. La modalità di trasmissione principale, l'88%, è quella sessuale. Il 47% di tutti i casi è dovuto a trasmissione eterosessuale e purtroppo la percezione del rischio tra gli eterosessuali è molto bassa. Al momento della diagnosi il 43% delle persone era già in AIDS o in una fase molto avanzata dell'infezione. In Emilia Romagna chi esegue il test HIV può fare gratuitamente anche il test sierologico per evidenziare la presenza di anticorpi al coronavirus. Eccoci, rientriamo in studio anche con il dottor Andrea Boschi che vi ricordo è qui con noi, mio ospite in questa puntata. Dottore, subito volevo fare una precisazione sul finale del servizio, mi aiuti anche lei. Il test HIV può essere svolto in anonimato, mentre per il sierologico occorre rilasciare le proprie generalità per essere ricontattabili in caso di positività. Quindi è vero che in Emilia Romagna chi esegue il test per l'HIV può fare gratuitamente anche il sierologico, però c'è questa distinzione. L'HIV è anonimo, il test HIV è anonimo, mentre per il sierologico bisogna evidentemente lasciare i propri dati per essere ricontattati e ricontattabili in caso di positività. Dottore, me lo dice lei dove si può fare il test? Così diciamo subito le questioni pratiche. Ci sono sette punti nella tenda dove si può fare il test in maniera gratuita, anonima, senza nessuna richiesta del medico curante, quindi con accesso diretto. Quindi i quattro reparti di malattie infettive sono quelli di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, poi c'è Riccione, Lugo, questi sono tutti i centri dove una persona può recarsi senza prenotazione, senza nessuna necessità di avere una richiesta, quindi non c'è da andare dal medico curante per fare una richiesta per fare il test, anonimo e gratuito. Quindi è una cosa facilissima da dove fare. Basta appunto avere la percezione della necessità di fare questo test, come lei ha detto purtroppo la maggior parte delle persone che attualmente arrivano alla diagnosi, arriva attivamente alla diagnosi e questa è una sconfitta, una sconfitta in tutti i sensi, una sconfitta per la persona perché adesso ci sono delle terapie estremamente efficaci. Consideri che l'infezione ad HIV adesso è un'infezione cronicizzabile, l'aspettativa di vita di una persona con l'infezione ad HIV è pari a quella di una persona con l'infezione ad HIV, si viene curata in maniera migliore. Ecco, quindi in questo senso dottore le cose sono molto cambiate, ad oggi l'aspettativa di vita di una persona con HIV è pari a quella di una persona che non ce l'ha, possiamo dire così? Assolutamente sì, i dati ci dicono questo e quindi questa qui è la prima cosa. La seconda cosa pertanto importante è che una persona con l'infettore di HIV che si cura e si cura bene, cioè fa una terapia efficace, non trasmette più l'infezione a nessuno, in nessun modo, quindi ad una doppivalenza, cioè noi siamo partiti, quando ho cominciato a fare questo lavoro, l'HIV è un'infezione mortale per chi l'acquisiva, è un'infezione che si trasmetteva. Adesso tutte le persone che sanno di avere l'infezione dell'HIV che si curano, hanno un'aspettativa di vita come le altre persone e purtroppo succede che muoiono per altre cause come tutti noi e non trasmetto più l'infezione, quindi immagini come è cambiato completamente lo scenario per questa cosa, per cui ogni diagnosi non fatta è una sconfitta dal punto di vista individuale, perché quella persona ha delle conseguenze dell'interno anche dal punto di vista sociale, perché quella persona purtroppo non sapendo di essere l'HIV positiva, non si cura e non prende delle precauzioni per non trasmettere l'infezione Ecco dottore, ogni diagnosi non fatta è una sconfitta, lei sa benissimo perché vive tutti i giorni in corsia che questo 2020 è un anno completamente diverso dagli altri, proprio a causa di questa pandemia che ha influenzato l'accesso ai servizi sanitari, quindi da gennaio ad oggi, stiamo parlando del 2020, le nuove diagnosi in Auslo Romagna sono diminuite e questo vi preoccupa anche alla luce di quello che ci ha appena detto lei? Non è un motivo di gioia, anzi il contrario? Ci preoccupa molto perché sono calate le diagnosi, ma sono calati i test, noi stiamo nei 7 centri dove si può fare il test, diciamo così, in maniera anonima, dove noi facciamo la metà delle diagnosi circa per tutti gli anni, dove vengono le persone che hanno fatto la metà dei test, proprio perché l'accesso a questi ambulatori quest'anno è stato più difficile, come l'accesso a tutti i servizi sanitari, se consideri proprio che noi delle malattie in pandemia siamo proprio coinvolti in prima linea sul covid, quindi siamo tutti impegnati su questo, abbiamo ridurre di nuovo chiudere il nostro re ospite, ridurre di molto l'attività del nostro re ospite, perché recuperare medici per recuperare infermieri, per la seconda ondata che ci è arrivata addosso, quindi abbiamo perso dei mesi in cui le persone hanno avuto più difficoltà da seguire. Riusciamo a fronte, diciamo così, alle persone che abbiamo in terapia, perché deve considerare che nella nostra azienda abbiamo circa 3.400 persone in terapia, quindi sono tutte chiaramente da seguire, fortunatamente è più facile seguirle adesso perché basta, in quelli che vanno bene bastano due controlli del sangue all'anno e poi dopo c'è tutto bene, quest'anno ci siamo, ci contentiamo anche di una telefonata o una mail per dire che va tutto bene e per confermare che tutto quanto deve continuare come le altre volte, quindi abbiamo riuscito in qualche modo a far fronte, grazie alle tecnologie, grazie a tutte le possibilità che ci sono, a tutti questi fatti, ma le persone invece che non sono in cura, che non sanno di avere questi fatti, hanno pensato meglio degli altri anni, proprio perché ci sono altri problemi. Certo. Dottore, la buona notizia, abbiamo sentito anche nel servizio, è che nel territorio romagnolo dal 2010 al 2019 le nuove diagnosi sono diminuite, con un'incidenza che nel 2019 è più che dimezzata, però a Rimini c'è ancora l'incidenza più alta in regione, secondo lei come si spiega questo elemento? Diciamo così, vediamola in positivo, siamo quelli che abbiamo avuto il calo maggiore, perché dieci anni fa avevamo il doppio dell'incidenza di quelli che abbiamo avuto il calo maggiore, si spiega perché Rimini ha un polo di attrazione per un sacco di persone che hanno sviluppo poi dei fattori di rischio più alti rispetto ad altri, cioè è impegabile che Rimini, Ripzone, la Riviera attrae un sacco di persone che hanno più rischi rispetto ad altri, sia per la dipendenza, sia per il rischio sessuale, per cui la spiegazione può essere questa qua. Abbiamo pensato a tutti questi anni ma non abbiamo trovato un altro motivo, perché a Rimini ci debba essere più incidenza rispetto ad altri luoghi, forse perché è proprio un luogo di maggior divertimento rispetto ad altri. Attualmente, dottore, in Auslo-Romagna le persone in trattamento sono circa 3.400, mi corregga se sbaglio, e in che cosa consiste la terapia? Attualmente la terapia, fortunatamente, sono poche compresse al giorno da assumere una volta al giorno, quindi è una cosa molto facile da fare, come è che prendo una compresse tutte le mattine per la pressione, quindi sono una o due compresse da assumere tutti i giorni in maniera cronica, fondamentale della visione alla terapia, una buona aderenza alla terapia, perché a differenza della pressione noi combattiamo contro degli esseri viventi, che sono i virus che possono creare dei meccanismi di difesa quindi la terapia sulla sua mente poi non funziona più, ma i nostri pazienti lo sanno benissimo e quindi quelli che sono in terapia da tempo fanno un controllo degli esami due volte all'anno è tutto molto facile, molto semplice l'erogazione della terapia viene fatta direttamente dai centri dove vengono a fare il prelievo, dove vengono a fare la visita quindi facciamo tutto praticamente in un punto per cui le persone non debbano, tra virgolette, esporsi ad altri servizi perché c'è, diciamo così, sempre la paura di essere visti, di essere scoperti come se fosse una, è ancora, diciamo, viene ancora vissuto con regonia che non dovrebbe più essere a questo dottore, a questo aspetto arriveremo più tardi le volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di diagnosi tardiva, che è uno degli elementi negativi da contrastare però le voglio chiedere, quando parliamo di diagnosi tardive, di che cosa stiamo parlando? cioè, quanto tempo passa in media da quando si contrae l'infezione a quando si arriva alla diagnosi? diciamo così, la storia naturale dell'infezione è diversa in tutte le persone in media, da quando io ho incontrato l'infezione a quando cominciano i primi sintomi mi passano dieci anni dieci anni quindi le persone che arrivano con dei sintomi hanno in media dieci anni di infezione non percepita per cui non hanno avuto l'idea che avessero questo tipo di problema che non hanno fatto nessun test, nessun esame per caratteristica e arrivano che hanno, purtroppo manifestano dei sintomi tali che in qualche modo vengono ricondotti a una possibile infezione d'HIV si fa il test ecco dottore, e quali sono questi sintomi? quali sono questi sintomi che possono manifestarsi dopo dieci anni? quali sono i campanelli d'allarme? diciamo che sono talmente specifici che è difficile dire però i generi, i primi sintomi che compariono è una febbricola, una perdita di peso in maniera spiegata e poi magari mi viene anche un po' tipo un fungo tipo una candida in bocca ecco che questi sono i primi sintomi che possono comparire una persona che non aveva la percezione del rischio ecco e in questi dieci anni ogni febbricola e ogni perdita di peso anche problemi intestinali diceva? no, dicevo, in tutti questi dieci anni la persona che ha l'HIV non se ne accorge quindi potrebbe è totalmente assintomata totalmente diciamo così in che non arriva appunto diciamo così che il sistema immunitario comincia ad avere dei sedimenti perché ricordiamo che l'indicazione dell'HIV è quella che si chiama che si chiama AIDS cioè la sindrome dell'immunodeficienza acquisita vuol dire che le mie difese piano piano vengono distrutte e a un certo punto le mie difese sono talmente basse che arriva qualche patologia ovviamente sono delle patologie diciamo così più banali poi arrivano quelle che si chiamano le patologie opportunistiche che si chiamano così proprio perché trovano l'opportunità di manifestarsi in queste persone che hanno una difesa bassa usualmente sono malattie che non si manifestano nelle persone con un sistema immunitario normale Dottore, spesso è proprio il fatto forse di non sentirsi neanche una categoria a rischio che rende difficile e tardiva la diagnosi questo è un elemento che va considerato e qui dopo ci sono i problemi per la diffusione e per la cura del virus perché il 30% delle persone affetto da HIV non sa di esserlo diciamo così le categorie a rischio non esistono più si parlava di questo un po' di anni fa attualmente siccome la trasmissione è quasi esclusivamente sessuale omo o etero non importa è difficile parlare di categorie a rischio chi fa sesso in qualche modo può essere a rischio perché consideri lei che ad esempio le donne lo acquisiscono nella maggior parte dal partner fisso e quindi anche il sesso all'interno della coppia fra virgolette può in qualche modo a volte essere pericoloso se il partner non è fedele ecco dottore l'AIDS per cui categoria a rischio è una cosa che non esiste più non ci sono più le categorie a rischio però volevo solo ribadire questo concetto pensare che esistono delle categorie si si vada vada avanti prego c'è un po' di no no scusi no volevo solo ribadire il fatto che parlare di categorie ci fa tornare un po' indietro non esistono categorie ci sono i comportamenti e quindi i comportamenti li possiamo avere tutti esatto ci sono non categorie a rischio ma comportamenti a rischio e quindi questo va assolutamente sottolineato perché forse l'AIDS fa un po' meno paura rispetto a quello che era negli anni 80 anche per come veniva rappresentata ce lo ricordiamo tutti il famoso alune viola con lo slogan se lo conosci lo eviti che poi purtroppo è stato applicato non alla malattia all'infezione ma alle persone questo ha danneggiato moltissimo che hanno poi anche il contrasto alla malattia ma anche lo stigma sociale che poi ne derivava quindi ha fatto benissimo a precisare che si tratta di comportamenti a rischio e non di categorie a rischio anche perché come ha detto lei oggi avere l'HIV significa riuscire ad avere un'aspettativa di vita anche insomma abbastanza lunga e quest'anno la campagna della regione ha deciso proprio per la giornata mondiale contro l'AIDS ha deciso di raccogliere le storie di persone che convivono con il virus è un monito per ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia adottare ogni precauzione e insieme non avere paura ma neanche vergogna di fare il test allora vediamo un clip di due minuti una di queste testimonianze proposte dalla campagna regionale Sabrina è una donna sieropositiva da molti anni ha contratto l'HIV dal suo ragazzo il nome è di fantasia e nel video è interpretata da un'attrice professionista però la storia che ascolteremo è vera sentiamo è stato il mio grande amore il mio primo compagno eravamo giovanissimi lui aveva un passato in comunità ma si era disintossicato e poi ci siamo sposati dopo qualche mese abbiamo scoperto che era sieropositivo e che aveva trasmesso l'HIV anche a me è stata come la fine di tutto sogni, speranze, futuro ed eravamo soli 30 anni fa non c'erano i farmaci che ci sono adesso la terapia aveva degli effetti collaterali tremendi lui è morto nel giro di poco io sono stata fortunata sono positiva da tanto tempo ma ho avuto bisogno di iniziare la terapia soltanto recentemente e oggi è tutto diverso le medicine sono cambiate ho avuto il supporto di una psicologa sto bene ho una mia vita ho il mio compagno ho le mie cicatrici, certo ma la terapia funziona mi piace fare camminate incontrare gli amici cerco di stare con le persone care il più possibile quando ero adolescente mi sono esposta a un rischio di cui non ero minimamente consapevole dell'HIV si sapeva pochissimo l'unica preoccupazione in un rapporto sessuale era di non rimanere incinta alle ragazze di oggi vorrei dire di stare attente perché sull'onda dei sentimenti c'è il pericolo di farsi trascinare vivere la sessualità sì ma con un po' di prudenza con tutte le possibilità che ci sono adesso di informarsi e di proteggersi prendere l'HIV è una cosa che non dovrebbe più succedere e poi di fare il test perché saperlo subito può davvero fare la differenza Ecco dottore questa è la storia di Sabrina che ci ha ricordato quanto sia importante fare il test e ci ha anche raccontato come è la sua vita in convivenza con il virus vi ricordo che potete trovare altre storie raccontate in questo modo proprio sul sito della regione nella parte che si occupa proprio di questa campagna contro l'AIDS Dottore dell'HIV si parla ancora poco e male secondo lei quindi? Parla pochissimo non se ne parla praticamente più quando se ne parla se ne parla solo perché magari uno ha infettato consapevolmente le proprie partner però sono persone disturbate sono persone non normali quindi se ne parla solo per mettere ancora più paura alle persone senza invece avere la consapevolezza che la storia che abbiamo sentito noi ne abbiamo 3.400 di queste storie seguiamo tutti i giorni nei nostri ambulatori che sono storie di normalità di persone che si sono sposate che hanno avuto figli che pur essendo seropositivi che fanno una vita assolutamente che lavorano che sono come noi che prendono due compresse al giorno e che fanno una vita assolutamente buona nostra questo che bisogna capire bisogna capire che l'infezione d'HIV è una malattia che colpisce a caso attualmente quando purtroppo sopriamo una persona con l'infezione d'HIV la prima reazione è cosa sento io con questa infezione a confermare di quello che le dicevo prima non esistono le categorie esistono dei comportamenti che possiamo avere tutti e quando adesso lo scopriamo proprio è come se si cascasse il mondo addosso perché siamo ancora pensiamo ancora di essere quelli con l'alone e viola attorno capito? le persone a cui lo diciamo perché non c'è stato un passo in avanti non c'è stato un passo culturale in avanti la campagna tanto famosa che da due anni si dice che è quella con l'acronimo U uguale a U che vuol dire indetectabile cioè se ho una viremia non levabile cioè se faccio la terapia bene uguale un trasmissibile cioè non trasmetto l'infezione a nessuno deve essere un messaggio assolutamente che delettorio allo stigma delettorio alla paura la paura lo dobbiamo avere per le persone che non fanno il test non per le persone che sono seropositive in terapia sono persone che non sono mai state pericolose per nessuno ma adesso assolutamente non lo sono neanche per i loro partner sessuali diciamo così Dottor Boschi noi adesso nell'ultimo anno ci siamo tutti un po' appassionati ai vaccini alla medicina alla scienza e ci chiediamo anche come mai non siamo ancora arrivati a un vaccino efficace contro l'AIDS anche se sono in corso varie sperimentazioni perché non ci siamo ancora arrivati? perché non abbiamo ancora capito come si fa a guarire cioè nel senso tutte le malattie per cui noi troviamo un vaccino capiamo il meccanismo con cui una persona guarisse da quella malattia ed è in grado avendo quel tipo di difesa di non acquisire questa malattia nell'infezione ad HIV tutte le persone hanno gli anticorpi cioè quelli che dovrebbero proteggersi dall'infezione ma questi anticorpi non sono sufficienti a contenere l'infezione quindi diciamo così ci manca ancora l'elemento di conoscenza di un eventuale anticorpo o di un eventuale risposto immunitario che ci possa proteggere con l'infezione dell'HIV ci sono fatti vari tentativi ma tutti hanno dato risposta negativa perché è un virus diverso dagli altri questo virus ed è un virus di cui ancora a parte due casi di guarigioni ma legate a trapianti di midollo cose che sono più pericolose della malattia stessa non abbiamo notizie di persone che siano guarite i decessi all'anno dottore rimangono stabili intorno ai 500 l'anno quindi ci sono è vero delle diagnosi sono in calo però i decessi restano sempre quelli quindi insomma per dire che di Aids comunque purtroppo se presa tardi si continua a morire allo stesso modo eh certo se arriva tardi il problema è sempre quello diciamo così comunque i decessi legati alle intenzioni opportunistiche adesso sono molto meno poi dopo è chiaro che abbiamo delle persone che come tutti quanti sono anche più positive possono avere altri tipi di patologie per cui ci sono dei decessi che non sono più correlati direttamente col virus avvengono in persone che non sono più correlati direttamente col virus la mortalità è molto migliora anche se purtroppo si è stabilizzata come se sono stabilizzate le infezioni le diagnosi tardive delle infezioni perché quello zoccolo duro lì che non riusciamo a raggiungere con la prevenzione con il test non vengono a fare il test quindi saranno quelle persone che saranno sempre a rischio perché non tardi alla diagnosi ecco a proposito di test proprio questo in chiusura vorrei ribadire con lei dottore anzi vorrei anche chiederle siccome c'è la possibilità di fare come abbiamo detto e sentito il test HIV e anche il test sierologico per vedere se ci sono gli anticorpi al coronavirus ed è stata questa possibilità data a fine novembre ad oggi quante persone si sono presentate è arrivato qualcuno che ha chiesto di fare l'uno e l'altro? diciamo così noi purtroppo non siamo in grado in questo momento di reggere anche all'esecuzione del test per il covid e questo qui l'abbiamo comunicato alla regione siamo in emergenza per cui tra l'altro il test che ci veniva detto di fare era quello rapido il sierologico per cui un infermiere impiegato è un sito rapido che viene fatto direttamente dall'infermiere qui dell'ambulatorio che richiede un quarto d'ora per ogni persona per cui abbiamo ridotto l'infermiere perché adesso ci sono tanti a casa perché ci sono infettati con il covid per cui non siamo in grado di purtroppo di fare l'uno e l'altro insomma ci sono tutte le buone intenzioni però nella pratica non si riesce quindi non siamo riusciti ad attrezzarci per poterlo fare proprio per carenza di personale per carenza di risorse le risorse che abbiamo ci saranno tutte per cercare di stare dietro adesso a queste cose qui e molte cose rimangono indietro purtroppo Dottore, in chiusura da lei una sollecitazione ai nostri telespettatori alle nostre telespettatrici a fare il test e perché è importante il test? Il test? Bisognerebbe avere la stessa spinta per fare questo test rispetto a quello che tutti vorrebbero fare per il covid perché questo test è importante per come abbiamo detto una diagnosi precoce mi rende assolutamente sicuro per il mio futuro perché anche se ho l'infezione posso fare una terapia che mi permette di vivere tutta la vita in maniera tranquilla e mette tranquilli tutte le persone che sono vicino a me soprattutto quelli che mi vogliono bene perché ho l'infezione agli altri anche pur avendo dei rapporti sessuali con queste persone per cui ha questa doppia valenza individuale nel senso che io proteggo me stesso evito di avere una malattia che mi può avere delle conseguenze anche mortali evito di avere un'evoluzione della malattia anche solo l'infezione ed evito di trasmettere l'infezione agli altri Dottore che giorni sono lì in ospedale? sono giorni duri questi? sono giorni duri ma si vede un po' di luce stanno calando i casi speriamo di finire anche questa seconda ondata e speriamo che questa seconda ondata ti abbia insegnato che non voglio fare il solito virologo che parla di covid che ce ne sono anche troppe individuali che una volta finita la seconda ondata non si può fare liberi tutti per arrivare poi alla terza dobbiamo mantenere questi comportamenti che ci tengono nel tempo finchè non ci siano trasmettazioni efficaci ecco quindi questo è anche un appello prendiamolo buono anche per Natale Natale sobrio quindi secondo lei questa strategia funziona o quantomeno è l'unica che riusciamo ad applicare ecco che ci porta un risultato per il momento ma l'abbiamo già visto anche nel primo picco in questo secondo picco abbiamo capito che funziona anche non un lockdown completo come nel primo picco perché già i risultati che abbiamo adesso li abbiamo con i risultati di quando abbiamo già li ancora questo qui è un buon segno vuol dire che se noi impariamo a usare le mascherine a distanziamento sociale non parli aglomerati non creare tutte quelle condizioni in cui c'è un sacco di gente senza protezioni e lì si ha sicuramente una trasmissione riusciamo ad affrontare facendo una vita fra rigolette quasi normale finché non arriveranno al sino a permetterci di avere una vita veramente come prima come quella del 2019 grazie 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 mille dottor andrea boschi infettivologo responsabile della struttura interdipartimentale gestione infezione da hiv dell'ausl romagna grazie davvero per essere stato con noi e per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro grazie 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 al dottor boschi lo lasciamo tornare in corsia la puntata di oggi si conclude qui io vi ringrazio come sempre dell'attenzione ci vediamo non la prossima settimana perché è l'8 dicembre facciamo una breve pausa ci rivediamo settimana dopo parleremo del tumore al colon intanto io vi saluto e vi dico come sempre abbiate cura di voi grazie grazie grazie